Nonostante il Pescara abbia più di un piede e mezzo in Serie B e alta in città l'attesa per il match di domenica prossima contro il Milan, la prova si è avuta ieri quando la dotazione di biglietti è stata polverizzata in 5 ore tra acquisti online e nelle ricevitorie e la società costretta a rimandare al mittente alcune delle richieste provenienti da club del centro-sud Italia. Dunque oltre 20.000 persone saranno presenti, tra le altre cose, al ritorno in rival adriatico di Mr. Trentagol, Gianluca Lapadula, l'uomo che nell'Abruzzo ha trovato la sua fortuna ma che a sua volta ha fatto le fortune di squadre abruzzesi, prima da protagonista nella promozione in B del Teramo poi negata dalla giustizia sportiva, quindi da assoluto re dei bomber della cadetteria con le 30 prodezze che hanno portato il Delfino in Serie A passando per i play-off. Lapadula, all'Abruzzo, è profondamente legato, tanto da tornare appena può a salutare amici ed ex compagni di squadra, ma domenica l'avversario cercherà il gol per aiutare il Milan nella rincorsa all'Europa, sempre che Montella gliene dia l'opportunità, cosa non accaduta all'andata quando uno dei migliori pescara di Massimo Oddo fu superato solo dalla punizione beffa di Buonaventura, ma l'attaccante torinese rimase in panchina per tutti i 90 minuti. Con De Olofeo e Ocampos esterni il ballottaggio sarà con Bacca, Montella dovrà valutare se il colombiano di ritorno dalla nazionale sarà subito pronto per partire dal primo minuto, altrimenti spazio alle grande ex. In casa pescara invece Zeman attende le prossime sedute di allenamento per capire se Guglielmo Stendardo e Gianluca Caprari potranno essere della partita. Sarebbero recuperi importanti anche perché in difesa Coda e K.O. e Campagnaro non è ancora al 100% e non ha mai giocato nell'anno nuovo. In attacco Caprari resta l'attaccante di migliore caratura e per lui, di proprietà dell'Inter, questo rappresenterebbe un assaggio di derby. Sul loro impiego qualcosa in più si capirà dopodomani quando la squadra disputerà l'amichevole contro l'Avezzano al Dei Marsi. Sarà anche l'opportunità di capire se Zeman vorrà lanciare dal primo minuto Koulibaly o se invece riproporrà il centrocampo classico della sua gestione con Bruno Metodista e Verre e Memuschai di ritorno dalle nazionali quali Mezeali.